E' stata ferita con diversi colpi d'arma da taglio in più parti del corpo. Una giovanissima donna di 24 anni di origine marocchina, ma residente a Canusa di Puglia, è caduto nel primissimo pomeriggio di ieri in un'abitazione nel centro, nei pressi di Palazzo di Città. La donna è stata soccorsa dal provvidenziale intervento di un'equipe sanitaria del 118 che ha dovuto trasportarla d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andrea, qui dopo aver perso moltissimo sangue è stata sottoposta ad un lungo e delicato intervento. Assieme ai sanitari del 118, anche agenti della polizia di Stato di Canusa, si continua a lavorare per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ieri in quella abitazione. Ad aggredire la donna sarebbe stato un uomo, probabilmente il suo convivente, che al termine di una violenta liti avrebbe sferrato numerosi fendenti con un coltello all'indirizzo della donna. Per lui scatterà l'accusa di tentato omicidio, anche se nell'immediatezza l'uomo si è reso irreperibile. Ferite profonde sul corpo, ma anche nella mente invece per la giovanissima donna con l'ennesimo grave episodio di violenza che poteva avere un esito ancora più grave.